Questo, cioè come diciamo il lavoro degli artisti, adesso questo in generale, non il suo particolarmente, ma l'arte in generale con la figura della donna, come riesce a contrastare esattamente proprio quella figura di donna patinata, divulgata dai media, ma anche sbranata in un certo senso. Cioè come si riesce secondo lei l'arte? L'arte lo può fare senz'altro, purché come al solito ci sia di fondo la qualità. La parola chiave nell'ambito della pittura, e qui esuliamo un po' dal tema, però è importante fare un paio di considerazioni. Io mi batto molto da figurativa nel difendere la qualità nell'ambito dell'arte, pur lasciando intatto il codice stilistico di ogni artista. Sostanzialmente io ritengo che ogni artista abbia il diritto sacrosanto di esprimersi nel codice stilistico che gli è più congeniale, che possa essere figurativo, possa essere a stato, possa essere concettuale. La cosa fondamentale nell'ambito di qualsiasi declinazione artistica è la qualità, e gli interlocutori lo sentono, lo avvergono. Anche se l'immagine risulta forte allo spettatore? Mi vengono le opere. Allora, diciamo che qui andiamo a toccare un altro tema che è stato in qualche modo inquinato da certa cultura accademica. Cioè si pensa spesso che la bella arte debba ritare belle cose. Non è così. Non è così. La bella arte è bella arte al di là di ciò che ritare. Quindi questo è un binomio fondamentale che spesso nell'arte contemporanea è stato stravolto all'opposto.